Siamo a Cascina Roma nel centro di San Donato e abbiamo qui il candidato sindaco per le prossime amministrative del 6 e 7 di maggio per il centro sinistra San Donato Andrea Checchi. Ben trovato Andrea. Buonasera a tutti voi. Ma allora da dove nasce questa avventura? Come nasce questa candidatura di te come sindaco? Abbiamo fatto qua a San Donato il 20 novembre, abbiamo fatto le primarie e hanno partecipato più di 2200 cittadini di San Donato, io le ho vinte come candidati, eravamo in tre candidati, io ho vinto e da lì è partito tutto un percorso che ha visto coinvolte parecchi cittadini, le associazioni, abbiamo fatto sei incontri pubblici che le abbiamo chiamate le Agorà di Andrea in cui su sei temi fondamentali per la vita della città si sono ascoltati i cittadini, si sono fatti ascoltare in base anche a delle proposte molto operative, molto precise. Siamo una coalizione del centro sinistra in cui sono presenti il Partito Democratico, Italia dei Valori, SEL insieme ai Verdi e una lista civica Noi per la città, per Andrea Checchi sindaco. e queste quattro forze politiche mi stanno sostenendo, stanno lavorando benissimo con la città, abbiamo preso degli impegni precisi con i cittadini e da questo punto di vista crediamo di aver fatto un lavoro veramente e significativamente partecipato. La partecipazione come elemento distintivo di questa avventura e poi dicevamo un programma condiviso, proviamo a delineare alcuni punti fondamentali di questo programma. Guarda, ne metto in linea tre che mi sembra fondamentale. Il primo, il più importante di tutti è il ragionamento sulla comunità. Abbiamo lavorato tantissimo su quali sono i tratti caratteristici della comunità sannonatese, ne abbiamo delineato alcuni punti fermi e soprattutto abbiamo colto che questo era un bisogno molto forte da parte dei cittadini, il cui vogliamo dare un ascolto molto deciso. Il secondo è quello a cui cenavo prima, ascoltare e farsi ascoltare in termini di partecipazione. Vogliamo veramente mettere a disposizione dei cittadini quelle che sono delle possibili azioni, interazioni in favore della loro piena partecipazione. Allora vuol dire fare delle assemblee pubbliche nei vari quartieri della città, vuol dire mettere su internet le sedute del Consiglio Comunale, vuol dire costituire associazioni, consulte su alcuni aspetti specifici. Il terzo, estremamente importante anche alla luce di quelle che sono le prospettive future in questo periodo di forte crisi per i cittadini, noi vogliamo fare in modo che ci siano rafforzate le reti e le relazioni tra le persone, tra i singoli, tra le famiglie, tra le associazioni, in modo tale che ci sia un sostegno e una promozione forte da parte della pubblica amministrazione, ma soprattutto e non solo, anche tra i singoli cittadini tra di loro, in maniera che la rete di rapporti sia sempre più forte e sempre più consolidata. Beh, abbiamo parlato tantissimo di persone, persone e relazioni, mi sembra di capire che tutto questo sia un po' mancato negli anni che ci lasciamo alle spalle a San Donato. Guarda, io spero che l'amministrazione centrodestra vada in pensione, ha fatto a mio parere forti danni per la vita di questa città, vogliamo ridare forza invece alla capacità di parte dei cittadini di essere presenti, di essere partecipi, di attivi per la città. Cito solo un esempio che mi è sembrato particolarmente significativo, abbiamo messo nel nostro programma la possibilità di rafforzare, di dare il via a un'associazione di giovani pensionati. A San Donato ci sono competenze, ci sono saperi, ci sono esperienze molto belle che vanno valorizzate. La pubblica amministrazione può fare questo, mettere insieme dei cittadini virtuosi che si mettono a disposizione del bene a città, si prendono cura delle panchine di velte, le rimettono a posto, dipingono le cancellate delle scuole, trovano il modo e fanno in maniera che comunque ognuno senta proprio un pezzettino di città. Questo crea una virtuosa comunità e su questo noi crediamo che valga la pena investire. Altri temi, tanti potrebbero essere, ne cito solo due, il traffico e la dimensione ambientale, visto che San Donato è attraversata da arterie importanti sia dal punto di vista del ferro sia dal punto di vista della gomma. Due temi su cui ragionare. Teni conto che possiamo resumere in un termine molto forte su cui abbiamo lavorato, il tema della mobilità dolce. Allora vuol dire rafforzare quelli che sono, una mobilità che non impatta con la vita delle persone, quindi il discorso delle piste ciclopedonali da rimettere in moto, da raccordare perché ci sono dei pezzi tra loro scollegati. Si tratta ad esempio da questo punto di vista di fare in modo che le macchine viaggiano più lente, investire su quelle energie che fanno muovere le auto in maniera più ecologica, quindi il metano, tieni conto che un quartiere di San Donato si chiama Metanopoli, poi l'auto elettrica e poi vuol dire rafforzare quello che è un lavoro sulla mobilità che non è solo finalizzato a raggiungere il posto di lavoro, ma che diventa bloccare quello che è il traffico di attraversamento. San Donato rischia l'impasse proprio per questo motivo. Allora vuol dire mettere sistemi che dissuadano l'attraversamento delle mezzi che passano da San Donato per andare in altre città. Vogliamo da questo punto di vista appunto promuovere una mobilità a misura d'uomo e che sia garanzia e forza per il benessere dei cittadini nella nostra piccola cittadina di 35.000 abitanti. Chiamala piccola, vabbè, un piccolo assaggio questo del programma di Andrea Checchi e un piccolo assaggio anche del percorso partecipato che lo ha condotto fin qui attraverso le primarie e attraverso questa avventura. Avventura che dipende anche da voi, il 6 e 7 maggio deve trasformarsi in un'avventura per tutta San Donato. Quindi mi raccomando se abitate a San Donato, Andrea Checchi, se conoscete qualcuno di San Donato, fate il passaparola. Quanto a te Andrea, in bocca al lupo e mi raccomando. Grazie, finite. Augure a tutti.